Un software per analizzare in modo rapido ed efficace i consumi industriali e contribuire al risparmio energetico. ETA, questo è il nome del nuovo programma, è un brevetto tutto made in Italy, ideato dalla società romana Acotelnet insieme a Bartucci S.P.A. L'innovatività di ETA è quella di essere dinamico perché è in grado di sviluppare la diagnosi anche sulla base di un servizio che può essere aggiornato durante l'anno e soprattutto è uno strumento non solo per conoscere ma anche e soprattutto per agire. Il servizio si distingue infatti per la semplicità della sua interfaccia e allo stesso tempo la sua efficacia. Col suo speciale algoritmo infatti è capace di analizzare i centri di costo più significativi del proprio impianto indicando gli eventuali sprechi e le concrete opportunità di miglioramento. Il cliente finale, che può essere una grande azienda ma può essere anche un professionista, un consulente, è in grado di trovare dei modelli matematici che capiscono da soli e in modo adattivo se quell'azienda ha dei benchmark adatti a posizionarsi sul mercato a livello di consumo energetico consono alla propria attività. Grazie a questo innovativo strumento le aziende potranno assolvere l'obbligo normativo di effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e contemporaneamente migliorare le proprie prestazioni energetiche.